Wow, ho catturato un Pikachu! Pika, pika, pikachu Sei così carino, mi domando cosa stai dicendo Umano, 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 umano Ti chiamerò Scorreggione Immagino sia il mio nome adesso Finché vivo Scorreggione Questo è mio nipote, com'è che si chiamava? Faccio da dildo Mi chiamo Gary No, sono sicuro che se faccio da dildo Vai, pik, puk, pak, piccolo ratto del merda Già, ricevuto, sono io Non posso usare fulmine contro un tipo a terra Alcuni tipi sono resistenti contro altri tipi Usa fulmine, figo E che cazzo Ciao, Charmander Hai mai pensato che potresti morire? Cosa? Ciao, ciao, Charmander Beh, che fai questo fine settimana? Beh, pensavo di fermarmi al percorso 4 Guardare dritto per il resto della mia vita Who's that Pokemon? It is Wednesday, my dudes Aaaaaahhh 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 Aaaaaahhh